Tutt'altro che risolta la questione dei rifiuti tra l'Aquila e Sulmona, non c'è stato nero su bianco l'accordo tra l'SM e il Consorzio Cogesa sul conferimento dei rifiuti aquilani nella discarica Peligna. In sostanza l'accordo è mancato sulla questione delle nuove tariffe che il Cogesa vuole applicare per l'uso dell'impianto di Noce e Mattei. Il contratto ormai è scaduto il 31 dicembre scorso ma si è andata avanti con una proroga a suon però di polemiche anche da parte dei sindaci dell'Aquila e Sulmona che non solo sono certo ma andate a dire. Il Cogesa, guidato dall'amministratore Franco Gerardini, starebbe per inviare peraltro all'Aquila il previso di stop al conferimento dei rifiuti lasciando un margine di soli 30 giorni. L'amministratore unico di SM invece Lanfranco Massimi ipotizza di bandire una gara per trovare una nuova discarica, insomma di nuovo tensione alle stelle. Massimi è stato perentorio a quanto pare, ha detto che l'SM si rifiuta di pagare di più di quanto previsto sul contratto per le annualità precedenti, come chiede invece il Cogesa e ha aggiunto che non ha neanche avuto indicazioni chiare sulla tariffa per il futuro. Il Cogesa non vive una situazione semplice, l'amministratore ha spiegato che sta aspettando e che se la situazione non dovesse sbloccarsi a breve o se dovesse davvero arrivare il preavviso di stop si sarà costretti ad andare a gara per individuare un nuovo sito, a meno che non intervenga l'autorità regionale si rifiuta di indicare altra strada ma l'Aquila rischia di rimanere senza sito. Insomma una situazione sempre più ingarbugliata, Gerardini nei giorni scorsi ha mandato una lettera ad SM con la proposta delle nuove tariffe scrivendo che quella definitiva verrà stabilita dai soci, una cifra dunque ad oggi non c'è, ma si capisce che sarà un costo superiore perché il consorzio fa riferimento agli equilibri economici finanziari e all'incidenza dei costi energetici, una cifra che dovrebbe aggirarsi 345-150 euro a tonnellata più IVA da rivalutare annualmente. Il Cogesa andrebbe poi a prevedere uno sconto del 5% in caso di risultato di miglioramento merceologico dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, una cifra più alta dei 110 euro pagati. L'inghippo sta nel fatto che il Cogesa chiede l'aumento anche per gli anni passati invece di 110 euro pagati all'SM nel 2021. Il Cogesa ne chiede 120, per il 2022 ne chiede 127,27, fatto sta che l'SM non ha intenzione di cedere.